salve a tutti ragazzi strano fenomeno che si registra a cern a ginevra quindi questo laboratorio di fisica di particelle dove si fanno un sacco di esperimenti sull'energia e altre cose sembrerebbe aver fatto guardate aprire un nuovo portale per chissà dove quindi sinceramente io guardando questa immagine non so neanche che dire quindi che diavolo è non lo so ragazzi diciamo che chi ha inviato questo video dice che a cern si sia aperto questo portale quindi nella notte si sarebbe verificato questo evento alquanto strano quindi il 12 di dicembre di quest'anno quindi pochi giorni fa ragazzi quindi io non so che dire un portale non un portale non lo so guardate adesso si vede anche meglio vedete tutta questa potenza questa elettricità e sappiamo che lì in questo cern con l'energia certamente non ci giocano che dire ragazzi il mistero rimane non lo so il video è quello che è però come sempre ragazzi al prossimo video ma soprattutto al prossimo mistero